Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Nella scorsa lezione abbiamo visto come funziona la color correction secondaria sfruttando lo strumento curve, saturazione e tonalità introdotte da Adobe Premiere nel 2018. Quest'oggi vedremo invece come utilizzare le maschere sempre per selezionare una porzione di immagine da voler color correggere per gli scopi più vari. Nel nostro caso andremo ad aumentare un pochettino la luminosità del castello che vedete sullo sfondo. Vi ricordo però prima www.fabioambrosi.it sito internet dove troverete gli articoli di queste video lezioni e tanto altro in realtà. Anche qualche notizia sul mondo dell'intrattenimento degli streaming online, delle tecnologie per la comunicazione eccetera eccetera. Quindi fate una cappatina di tanto in tanto e se vi fa piacere come sempre iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere tutti i prossimi video tutorial e ne usciranno anche su altri software Adobe. Ormai lo dico da molto tempo, so che forse qualcuno ha perso le speranze ma vi dico subito che stiamo preparando dei tutorial su After Effects. Quindi chi è interessato continui a seguire questo canale e sarà presto aggiornato. Torniamo a Premiere, parliamo delle maschere. Abbiamo visto la color correction secondaria fatta con il vecchio strumento della color secondaria del pannello Lumetri Color con le curve introdotte di recente da Adobe Premiere ma adesso parliamo di maschere. Abbiamo detto due tutorial fa che quando modifichiamo il pannello Lumetri Color in realtà stiamo automaticamente aggiungendo un effetto alla lista degli effetti presenti qui nel pannello Controllo Effetti dimostrazione è che se io rimuovo l'effetto Lumetri Color e modifico qualunque valore del pannello Lumetri Color vedete che viene riaggiunto automaticamente l'effetto Lumetri Color colore Lumetri qui nel pannello Controllo Effetti quindi stiamo avendo a che fare con un effetto video di Adobe Premiere al 100%. Quello che noi vogliamo fare adesso però è modificare i pixel non di tutta l'immagine ma di un particolare punto della nostra immagine nello specifico del castello. Ok? Vogliamo dare più luminosità a questo castello. voi direte vabbè che ci vuole aumento un pochettino l'esposizione e il castello sì ma guardate lo sfondo abbiamo aumentato tutto e così non è sicuramente cosa buona e giusta vogliamo dare importanza al castello senza però distruggere tutta la nostra immagine come si fa? Si fa utilizzando le maschere quello che sto per insegnare adesso quello che sto per dire adesso in realtà e lo ricordo vale per tutti gli effetti di Adobe Premiere quindi quello che state per vedere potete applicarlo alla Color Correction ma vale anche per non so un effetto sfocatura un effetto qualunque qualunque anche effetti di terze parti tutti gli effetti che hanno qui questi disegnini che rappresentano un cerchio un quadrato una penna dove vedete questi simboli sappiate che lì è possibile aggiungere una maschera bene lavoriamo lavoriamo andiamo veniamo a noi cerchiamo di mascherare il castello per applicare la Color solo a quei pixel interessati facciamoci spazio perché chiaramente dobbiamo essere comodi quando lavoriamo e sotto all'effetto colore lumetri vedete dove c'è il disegnino di una penna facciamo click e vedete che io adesso qui sono stati aggiunti altri parametri o meglio è stata aggiunta una maschera maschera 01 e io se vado nel monitor programma ho una penna tra le mani praticamente ora io lavorerò male ve lo dico subito non perderò tempo a fare uno scontorno di precisione voi chiaramente cercate di essere un pochettino precisi quando lavorate e iniziate a premere e a cliccare sulla nostra immagine in modo da creare la nostra la nostra maschera ecco potete non essere precisi al 100% e vi dico subito che è impossibile essere precisi al 100% in Adobe Premiere questa è una delle pecche se vogliamo che ha questo software io per esempio qui non mi metterò adesso ad andare nel dettaglio della torre vado avanti per velocità ma se volete potete zoomare e fare la sagoma esatta della nostra torre dicevo questo è uno dei se volete dei difetti di Adobe Premiere ancora non ha uno strumento per lavorare con le maschere efficace e di buona qualità come per esempio After Effects spesso quando si devono fare dei lavori di questo tipo che richiedono effetti particolarmente impegnativi o che richiedono oh bla ho esagerato troppa lavorazione di norma si utilizza After Effects perché After ha sicuramente degli strumenti molto più performanti se volete molto più affidabili e molto più precisi di quelli che chiaramente ha Adobe Premiere però per piccole cose è possibile lavorare con Adobe Premiere con lo strumento maschera come stiamo facendo qui ora io non voglio queste piante mi mantengo solo alla roccia ricordo sto facendo qualcosa che non sarà perfetta e precisa al 100% voi sicuramente sarete più bravi e precisi di me eccoci qua abbiamo quasi finito facciamo che mi prendo un po' di piante senza esagerare però potremmo mettere anche sì cose sbagliate chiaramente potete cliccare ancora sui punti vedete e muoverli come come volete ok andiamo avanti clicchiamo lo facciamo veloce così chiudiamo subito questo blocco cliccate la cosa importante quando avete finito sul punto da cui siete partiti sostanzialmente e la nostra maschera è chiusa come potete vedere adesso qualunque modifica io andrò ad effettuare sull'effetto colore lumetri con la maschera 01 riguarderà solo i pixel presenti all'interno della maschera stessa quindi vado a aumentare un pochettino l'esposizione vado a diminuire magari un pochettino i bianchi aumento un pochettino le luci posso anche scaldarla un pochettino questa immagine e vedete che di fatto io sto lavorando solo sulla porzione di immagine che ho selezionato con una maschera se non vedete più la maschera basta ricliccare sulla voce maschera 01 e la maschera torna attenzione perché abbiamo dei parametri qui nella maschera che potrebbero aiutarci uno su tutti la sfumatura ecco si vede poco allargo un pochettino la voce sfumatura maschera ci permette di rendere la nostra selezione un pochettino più morbida sto esagerando chiaramente se esagerate troppo sparisce l'effetto però se giocate bene potete rendere il vostro lavoro anche se non è preciso quanto meno accettabile ecco qua ho un po' esagerato quindi vedete un'aurea intorno al castello ovviamente dovete giocare un pochettino con questi parametri e sicuramente otterrete un buon risultato la cosa importante che mi preme che voi capiate in questa lezione è che con lo strumento o meglio con lo strumento con le maschere è possibile applicare una color correction in maniera totalmente selettiva quindi non a tutta l'immagine ma solo ad una porzione una porzione di immagine le maschere come dicevo prima possono tranquillamente essere applicate a tutti gli effetti che voi volete che chiaramente hanno la possibilità di aggiungere una maschera facciamo un esempio io mi cerco l'effetto sfocatura gaussiana aumento ovviamente il valore di sfocatura per vedere qualcosa e vedete che è tutto sfocato ma se guardate sotto la voce sfocatura gaussiana vedete gli stessi simbolini che abbiamo visto sopra invece che la penna selezioniamo il cerchio vedete che viene disegnato un cerchio ok e io ho di fatto sfocato solo una porzione dell'immagine quella che ricade all'interno della maschera c'è anche la voce per invertire la maschera e in questo caso è il contrario metto a fuoco solo ciò che è all'interno della mia maschera come abbiamo detto abbiamo visto la sfumatura ci permette di rendere questo effetto un pochettino più morbido e non netto come prima e basta giocate un pochettino con questi parametri e sicuramente li troverete molto interessanti ve ne anticipo ma non lo vedremo quest'oggi che c'è la possibilità anche di traccare si dice una maschera se questo è un video in movimento come è un video in movimento vedete che la maschera resta ferma mentre il video si muove abbiamo a disposizione dei bottoncini per rapidità ve lo faccio vedere solo per completezza clicco sul play vedete che dopo essermi messo chiaramente all'inizio della clip premiera automaticamente legge le informazioni di movimento del video stesso e fa in modo che la mia maschera resti ferma lì dov'è a seconda di come si muove la mia la mia camera ecco ha finito vedete che la mia maschera resta non più bloccata al centro ma segue i movimenti del video stesso vi informo che funziona questa tecnica di traccare con questo strumento nel 50% dei casi se avete un'immagine molto mossa e un po' con nitida con molti pixel e di pessima qualità non sempre funziona al 100% basta così per adesso mi fermo nel prossimo tutorial vedremo come funzionano alcuni strumenti indispensabili per chi fa color correction come l'istogramma il vetto scopio eccetera eccetera www.fabbiambrosi.it sito dove troverete gli articoli di questi corsi di queste lezioni troverete anche news in generale sul mondo dell'intrattenimento e del filmmaking eccetera eccetera ma se vi fa piacere soprattutto iscrivetevi a questo canale di youtube per non perdere anche i prossimi video tutorial ringrazio tutti coloro che stanno commentando i video se avete domande ovviamente commentate commenti da fare fateli senza problemi non posso rispondere sempre a tutti 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 cerco di fare del mio meglio abbiate pazienza purtroppo per fortuna siete tantissimi e cercherò di rispondervi uno ad uno grazie mille al prossimo video tutorial ciao ciao